Siamo adesso alla politica. Il leader di Sicilia Vera, il deputato regionale Cateno De Luca, ha annunciato poche ore fa la sua candidatura a sindaco di Taormina. Ci racconta tutto Mariella Musso. Lo aveva annunciato qualche giorno dopo l'elezione a Lars e la sconfitta alla corsa per la presidenza della regione siciliana. Da ieri sera è ufficiale. L'ex sindaco di Messina, attuale presidente del Consiglio Comunale, anche se ancora per poco, in quanto sono previste a giorni le sue dimissioni e il subentro di Salvatore Caruso, nonché deputato regionale Cateno De Luca, sarà in corsa per la poltrona di sindaco di Taormina, nelle amministrative della prossima primavera. De Luca, dopo aver valutato il suo stato di salute a seguito di un malore che lo ha accolto a fine ottobre, tanto da aver messo in dubbio la possibilità di potersi candidare, ieri invece la conferma. Correrà per Taormina. Lo ha annunciato dal pulpito del suo comizio, davanti al Duomo della cittadina ionica, aggiungendo che la sua è una scelta d'amore per Taormina e i cittadini della perla ionica, in quanto non può essere solo una questione locale dal momento che Taormina è nelle strategie di un rilancio per l'intera Sicilia. Così De Luca si confronterà con l'uscente Mario Bolognari, sindaco dal 2018, ma già più volte primo cittadino anche in passato.